È un momento internazionale di grande prestigio in collegamento con B.E.P. Una delle donne più potenti e affascinanti del mondo, Melania Trump. Buonasera. Buonasera Italia, terra di pizza. Ah, pizza con sciroppo d'acero, ananas, gambaretti e bacon. A Donald piace tanto, dice che pizza con sciroppo d'acero è la morte sua. Magari. Senta, perché non parliamo di questa sua bella iniziativa a favore dei bambini? Sì, io ho pubblicato Puscolo contro il cyberbullismo, ma il giornalista dice che ho copiato quello di Michelle Obama di 2014. Solo perché il mio documento si chiama Be Best, mentre il suo si chiamava Be Better, ma è tutta altra cosa. La firma, ad esempio, è tutta diversa. Vabbè, questa mi sembra veramente una prova inconfutabile. Queste sono solo cattiveria, ma io so che il tempo mi renderà giustizia. Io, donna forte, io paziente, ferma, che aspetto. Che si rigredano. No, che lui mi muore. Comunque questa iniziativa è la prova che lei è autonoma, che non è prigioniera di questo presidente così incumbrante. Io, donna libera. È libera, su. Ma io ho dimostrato a tutti che posso fare gesti nobili, ma tanti anche, come questo. Sì. Questo. Sì. E questo anche. Può fare anche questo. Io posso fare, eh. Posso fare anche questo. Sì. E questo. E questo qui pure, sì. Senza chiedere permesso. Senza chiedere. Posso fare anche questo. Ah. Anche questo. Che cos'è, eh? Questo no. Questo non lo posso fare. Questo non lo può fare. No, ma vabbè, diciamo che però tutti siamo liberi di fare gesti con le mani. Cioè, non è che sia proprio una cosa... No, non è vero. Moglia di Kim Jong-un, ad esempio, non può fare. Può fare solo con una mano. Noi, sempre tra mogli, ci scambiamo utili consigli su cosa fare con capelli di Donald e Kim. Ecco, per esempio? Beh, ci fanno cuscino. Ecco. Basta aspettare che ci morano, no? Nel frattempo? Io posso fare anche... Che so? Sì. Botta da matta, faccio questo. Addirittura. Anche questo? Sì. Questo tu sai fare? No, questo... Questo tu non sai fare, eh? No, purtroppo. Questo, questo... Ah, no, no. Ecco, hai esagerato. Aspetta. No, lei ha esagerato veramente stavolta. Ecco. È arrivata la pizza. Ah, ecco. Finalmente, con uova sodio, cheesecake e maionese. Fosse la volta buona che Donald... Ecco. Donald? Memore. Eh, memore. Grazie, Melania. Può fare anche questo. Pure questo fa lei, sì. Anche questo. Eh beh, allora è liberissima proprio. Sì. Questo posso fare. Anche questo. Questo pure è carino, sì. Questo. Anche questo. Sì. Questo pure. Grazie. Ha esagerato un'altra volta. Buonasera. Buonasera. No, no. Bello no. Grazie. Grazie.